Come avere più energia e vitalità. Allo allo allo, è Luca Luna che ti parla dall'altra parte del video. Un argomento vastissimo, vediamo di dare alcuni suggerimenti pratici, rapidi, che puoi mettere in pratica subito. Uno, respira, respira in maniera corretta, quindi cerca di inalare. La principale forma di ciucciamento del prana, della energia, è proprio il pranayama, la respirazione. Quindi, la prima fonte di energia è quella di respirare. Respira in maniera corretta. Mi è entrato un pippolino nell'occhio, ma va bene. Quindi, siediti e respira, respira profondamente. Inala, riempi la pancia, riempi tutta la pancia, poi riempi i polmoni, poi riempi la parte alta dei polmoni dove la clavicola si alza. Ok, quindi devi avere quest'idea. Prima riempi la pancia come un palloncino, sali e poi vai sulle spalle lentamente e poi esala. Altra cosa da abbinare a questa tecnica è quella di inalare l'energia, la vitalità del sole, se sei al prato, all'aperto, comunque della luce. Immaginati di riempirti di luce e rilascia la stanchezza, rilascia le negatività, rilascia le tensioni, rilascia tutto ciò che non ti serve. Fai entrare amore, pace, armonia, libertà, condivisione, compassione. Rilascia dubbi, incertezze, perplessità, paure, rabbia, ira, furore, gelosia. Lasciali andare, lascia andare tutto ciò che non ti serve. Inala ed esala. Questo è sicuramente un primo grande esercizio. Un altro grande esercizio è quello di fare attività fisica. Per avere più energia devi fare attività fisica, ti devi muovere. Muoviti, fai quello che vuoi, basta che ti muovi. Quello che vuoi. Vai in bicicletta. Non sono un grande fan delle corse lunghe, delle maratone, eccetera, perché ritengo che non facciano un gran che bene alle articolazioni. Tuttavia degli sprint, preferisco piuttosto degli sprint, dove fai, non so, 100 metri di corsa, papapapapapa, e poi è via, però non delle corse prolungate. Soprattutto vedo queste persone in sovrappeso che corrono, secondo me è bella l'intenzione, bravi. Tuttavia se metti tutto questo carico sulle ginocchia non è una bella cosa. Piuttosto fai yoga, fai dei movimenti lenti, soprattutto se sei in sovrappeso, eccetera, fai attenzione. Se sei in sovrappeso evita di correre. Vai in piscina, fai quello che vuoi, però muoviti. Ok, fai azione, devi far circolare il sangue, ok? Devi far circolare il sangue dentro il tuo corpo, fallo accelerare, fallo correre di più, via, 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 via. Quindi questo è un altro grande elemento. Altro grande elemento è il sonno. Cerca di avere un sonno. Guarda come mi sto riempiendo di prana. C'è il sole, caspita, è proprio arrivato in questo momento, che bello. Pam, proprio mi sta quasi ustionando tutta questa energia del sole poderosa. Ringraziala, sai come mi prende qua il cuore, meraviglioso, grazie. Ok, dormi. È importante che dormi al buio, ok? Riposati, non usare il cellulare, dispositivi elettronici, televisione prima di dormire. Perché? Perché mandi in corto circuito la tua ghiandola pinneale, il tuo terzo occhio, che è preposto a bilanciare sonno e veglia. Se tu butti dentro degli input luminosi durante la notte, la ghiandola pinneale non capisce più che cosa deve fare, capisce più se è giorno, se è notte. Quindi ci sono persone che ovviamente hanno disturbi del sonno per questo motivo. Quindi cerca di riposare, riposa in un ambiente areato, areggiato, che ci sia ossigeno, ok? E via. Cerca di andare a dormire sempre la stessa identica ora e a svegliarti sempre la stessa identica ora. Il corpo è abitudinario. Devi dare un ritmo. Pam, 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 pam. Devi essere un orologio. Se vai a letto alle nove, vai sempre a letto alle nove. Se vai a letto alle dieci, vai sempre a letto alle dieci. Cerca di non andare a letto troppo tardi e alzati presto. Il suggerimento è alzarsi presto. Alzati presto, vai a dormire presto. Vai a dormire presto, ti svegli presto. Ok? Questo è un segreto, ok? E quindi altra cosa fondamentale, il sonno. Altro aspetto essenziale è il cibo, l'alimentazione. Se mangi delle porcherie, adesso non sto qua a farti l'elenco delle porcherie perché sei intelligente, a sufficienza per capire quali sono gli alimenti buoni da quelli non buoni, eliminali, scartali, sostituiscili con alimenti buoni. Perché? Perché se tu dai un sovraccarico al tuo corpo e gli chiedi di digerire delle robe indigeribili, è ovvio che poi quell'energia lì è dedicata alla digestione di un mattone piuttosto che a fare altro. Ok? Quindi è una scelta. In tutto questo non c'è nulla di male. Vuoi andare a dormire tardi? Vai a dormire tardi. Vuoi mangiarti le schifezze? Mangiati le schifezze. Non vuoi fare esercizio, vuoi fare come Homer Simpson con la birra davanti alla televisione fino a l'una di notte. Va bene. Non vuoi respirare. Va bene così. Vuoi stare con la bocca tappata tutto il tempo. Va bene così. È una tua scelta. Quando sarai stufo, stufa di soffrire, probabilmente cercherai una nuova via. Ok? La sofferenza, come dicono i miei maestri in India, è propedeutica, necessaria per l'evoluzione spirituale. Quindi non c'è nulla di male in nulla e probabilmente se stai guardando questo video è perché probabilmente un po' ti sei stufato, stufata della condizione in cui sei, in cui sei arrivato e stai cercando un cambiamento. Sono dei cambiamenti molto semplici che puoi fare e via. Un'altra cosa, un altro suggerimento bonus è quello di avere un'intenzione e di avere un proposito nella vita. Hai presente i bambini a Natale? PAM! Si svegliano di brutto. Oppure d'estate quando gli dici che si va a Gardaland, di solito una fatica, quando devi mandarli a scuola, SVEGLIA! Allora sveglia! Mannaccia, siamo in ritardo! Quando c'è da andare a Gardaland, quando è Natale, PAM! Sono già svegli. Perché? Perché la gioia, l'intenzione di vivere è straordinaria. Quindi mettiti un proposito che ti dà entusiasmo. Entusiasmo è una parola bellissima, con Dio dentro. Che ti dia entusiasmo, che ti dia voglia di fare. Domani mattina cosa faccio? Wow! Devo fare questa roba qui. PAM! PAM! Che voglia che ho di alzarmi! Quindi cerca di iniettare la tua vita di entusiasmo. Impregnati di Dio dentro, della voglia di fare, di vivere il giorno dopo. Ecco che questo ti aiuterà tantissimo a svegliarti il giorno dopo con tanta energia, voglia di fare, eccetera, eccetera, eccetera. Con questo è tutto, mi auguro che ti sia stato utile questo contenuto. Se hai voglia, clicca liberamente like su questo video. Mi darai la conferma che siamo sulla direzione utile per i contenuti che stiamo creando gratuitamente. Più persone guarderanno questi video, più so che stiamo facendo qualche cosa che vi è utile. Quindi il modo per comunicarcelo è proprio iscrivendosi al canale, lasciando un commento e mettendo like. Questo è l'unico modo che abbiamo di comunicare l'uno con l'altro e mi auguro che ti sia stato utile. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!